Ciao a tutti e buon venerdì a tutti, eccoci qua con 5 nuovi puzzle e vediamo, iniziamo a grattarvi va, man mano vi dico la serie, allora iniziamo dal primo che è serie 72 numero 6, 18 e 48 non ci sono, 30 e 35, il 30 c'è, il 30 c'è, il 35 no, 21 eccolo lì, il 46 eccolo lì, il 65 no, il 62 sì, il 23 no, il 14 sì, no il 23 sì e il 14 no, scusate, il 22 no, il 12 sì, poi abbiamo il 41 che non c'è, il 53 non c'è, il 33 non c'è e il 67 sì, ma è perdente, passiamo al numero 2, sempre la serie 72, i pezzi, i due pezzi 29 non c'è, 32 sì, 61 no, 57 non c'è, 70 e 67, 67 sì, i pezzi 31 non c'è, 53, il 25 sì, 62 sì, e 44 sì, poi 34 no, 23 sì E 17 sì Poi 11 Non c'è E 20 sì Quindi quadrifoglio l'abbiamo trovato Prima vincita 20 euro Buoni buoni come il pane Per ora su 5 Uno è vincente Adesso passiamo al numero 3 I tuoi pezzi 48 e 23 Non ci sono 50 e 28 C'è il 50 Bene 60 e 20 No abbiamo 70 52 e 35 C'è il 50 da qua 33 Non c'è 13 Neanche 69 Sì 41 Sì 43 Sì E 36 Non ci sei 63 63 Sì Si vede 63 c'è E il 21 No Il 59 Non c'è Quindi niente Parventa Siamo al numero 4 E qui i pezzi 50 e 17 Il 57 c'è 67 e 56 Non ci sono 34 e 25 C'è il 34 Bene Poi 42 Non c'è 66 Sì 41 41 No 28 Sì Bene 58 Sì E 23 Bene Colonna trovata 22 Non c'è Il 35 No Abbiamo il 36 Il 60 C'è E il 12 No Andiamo un po' Sotto la corona 3 euro Meglio che niente Andiamo avanti Con l'ultimo Che è il numero 5 Numero 5 Ha I suoi pezzi Sono Il 23 E il 30 E c'è il 30 Poi 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 58 C'è E 53 Tutto lì Nella coccinella Poi 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 11 34 Sono in fila Pure Buono Poi 32 24 Il 24 C'è Il 32 No 57 66 C'è il 57 Bene 49 33 Presa Il quadrifoglio Bene 48 67 Presa La coccinella E 19 21 Peccato Anche solito Non siamo riusciti A prendere Doppia C'è Tripla Triplo simbolo Allora Sotto Il quadrifoglio Ce ne sono 5 E sotto la coccinella Altri 5 Per un totale di 33 euro Bene Questo venerdì è andato bene Quindi vi saluto E vi auguro un buon venerdì a tutti E ciao a tutti Per un po' di Per un po' di Per un po' di Grazie a tutti.